Ciao a tutti e bentrovati. Allora, cosa ha annunciato Google in questi giorni? Beh, ha annunciato l'estensione globale, anche in Italia, del Property Promotion Ads, che è un ad legata a Hotel Ads, quindi per le strutture ricettive, molto molto potente. Vi faccio vedere come appare sul mio smartphone, sul mio iPhone, Cerchio Hotel Milano, appare subito il carosello, 20 risultati provenienti dalle solite OTA, poi appaiono i 2 risultati delle Ads, poi il Local Pack e infine i risultati organici. Quindi la SERP su smartphone è diventata completamente piena di Ads, che colpiscono molto l'attenzione, quindi il carosello, carosello a cui siamo abituati magari da shopping e da altre cose, quindi sempre più pieno di promozioni di Ads. Allora, cos'è questa Property Promotion Ads, che in italiano è chiamato Annunci di Promozione della Struttura? In realtà era già stata annunciata più di un anno fa, era già in fase di test da dicembre 2021, qualcuno l'aveva già riportata, ora è definitiva, è stata lanciata ovunque, quindi tendenzialmente si vedono questo carosello nella parte alta della SERP, solo da smartphone, nella pagina di aiuto, dice solo Android, in realtà lo screenshot che vi ho fatto vedere io era da iPhone, in realtà era su Chrome, è legata a Hotel Ads, quindi bisogna avere gli Hotel Ads, i gruppi di hotel, eccetera, quindi bisogna avere un partner per entrare dentro al sistema di Google, e Google stesso offre dei consigli su come utilizzarlo al meglio. Quindi lui dice, ti consigliamo di promuovere strutture che si trovano in un periodo di occupazione ridotta, sono stati recentemente introdotti sul mercato, per cui c'è bisogno di spingerle, oppure che abbiano ampliato l'offerta di servizi, oppure c'è un evento nella zona, oppure sono oggetto di vendita. Fatto sta che in questo modo, tendenzialmente, dove c'è un grosso impatto delle visite da smartphone, quindi Google ci piazza su smartphone, quindi sia su Google Maps, su Android, che sulla consueta visualizzazione su browser, ci piazza queste ads di grosso impatto. Detto questo, vi saluto, alla prossima!